È un film che secondo me è costruito molto bene, con una sceneggiatura forte. Ogni personaggio ha un carattere psicologico ben definito che viene costruito nei primi 30 minuti del film e poi viene completamente ribaltato nelle sequenze successive. Ci insegna che nessuno è invisibile ed è scontato, ma tutti possono cambiare nel tempo. È un film che parla non solo di famiglia disfunzionale, di la difficoltà e l'incomunicabilità a volte di determinate relazioni con i propri genitori, ma soprattutto parla di morte, non toccandola direttamente, ma lasciando questo alone, spesso asettico, che ci ricorda che spesso le cose e la percezione della nostra vita rimane solo nelle nostre teste. Dall'inizio alla fine si vede una sorta di declino di tutti quanti gli altri personaggi per cose che commettono situazioni dove si ritrovano. Queste situazioni portano le loro anime sempre più verso una morte apparente. So, first of all, it was a really great audience, the greatest audience I ever had for this film. And this conversation was really surprising for me. So, I mean, like, this experience was really, really good that I got from these kids. So, I mean, like, let's see if we... I mean, like this feeling like that, So, I mean, like, some people have felt like that, I feel like it were kind of like, Grazie.